Per acquistare i crediti FIFA a basso prezzo andate su fifacoinsland.com Con il codice GRANANAS avete l'8% di sconto YOO Now, say my name Bene ragazzi, siamo i granani, siamo tornati con un nuovo episodio di Rottenfield 1 E gioco io al primo tempo e abbiamo fatto un acquistone, Robben Non è vero l'abbiamo preso in prestito Abbiamo preso in prestito Robben e abbiamo preso, però abbiamo acquistato di Natale in questo veramente Esatto, sì, questo è vero, sta là vicino a Robben e quindi sarà la fascia più ardua per l'avversario Perché probabilmente gli romperemo il culo L'ultima partita purtroppo l'abbiamo persa Sì, ma non si sa qua c'è costato ora No, non c'è costato nulla, non lo so E l'ultima partita l'abbiamo persa, cercheremo di riscattarci con questa partita Io non ho capito che maglietta sta mettendo Guardate che squadra incredibile Siamo più forti noi Possiamo dire che siamo più forti noi Perché abbiamo Robben Perché se ci fosse Sonny Steiner non sarebbero più E dalle Vovark possiamo vincere, ma piove Di Natale, subito, casca per terra Palla Robben e si abbracciamo, dai Non è Palla Robben e si abbracciamo perché per lui è Palla Insigne e si abbracciamo No, no Non va, si va, non è vero, non va Inferibri, Insigne e come si caga il gol Qua Jesus fa duce Decolle, la palla per Robben Robben, Robben già non mi piace Già Robben non mi piace Sì, vabbè, che cazzo ha fatto questo passaggio lungo per Tyder 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 intercetta il pallone Tyder lo vede, lo vede male però l'ha visto Ancora Tyder L'ha visto E la palla per Di Natale Totò 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 Di Natale Non mi piace Destro 1-2 Mamma mia di tacco per Antonycio di Natale Che vuole fare tutto da solo Antonycio 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 Decolle Vai, scatta il mezzo, Robben 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 Perché ha fatto Stornire Per l'ho Perché non ti lì con il mancino L'anima degli mortacci tua E ora Aquilani Il cross in mezzo Troppo fuori Peccato Marchetti si butta Che non c'è veramente bisogno Di puttarsi qua Tocca un uomo c'è il cuore non è che cosa abbiamo portato via perché mi ti muovera ma quale forti non ha mai fatto un cazzo di dribbling anzine un'anima buona aluncio maschio rischio maschio buona e ci trovano buona mamma mia roberna 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 vuole fare tutto da solo di nuovo passato roberna carica il sinistro non è vero qualcuno gatti su di roma se di roma sono di qua la parola di pippa che sei grazie forte e vincere a brutto della storia tutto totò lo manda desaino romana romana tira il tiro che cazzo è in grado davvero non è stata un'ora in grado di coppito come cazzo ha fatto tanger r non va non farsi il nuovo perché non mi trovano 7 un gioco in mezzo da un po' sto parco di ogni sign non testo non mostro purtroppo un uomo la salva e no un fuoco che cazzo se non mi ha salvato il cross di senato 11 71 non sa cosa fare perchè c'è una pippa rara quindi il quadro per i casi si guardano mando come rientra a 1 cazzo quando si sa cosa 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 diamo da dire a testo un po' il suo modo e il testo la storia testo ma che c'è il pallone ma non ci sono le cittadine no ben sederita a tutti così spara di vista la stessa stessa per terra fermo inutile al mondo Ma come gioca il Granas Team? Mamma mia, guardatelo Guardatelo per Pereira Perché dai palla a Pereira rovini tutto Guarda Destro Il Ponte di Capodanno Il Ponte G2 a 0 E questa, si può dire, ce la portiamo a casa Destro, destro, mamma mia Le fintone di destro Pereira, 1-2 con Totò Va Pereira E' altamente ritardato che non ha capito che si deve smarcare dell'avversario Totò, Totò, Totò Cotugno non riesce a segnare Non riesce a segnare ma è deviazione Ma quando? Mattia, Mattia, Mattia Grande, lo vede Pereira? No, Pereira deve fare le stronzate Perché se non fa le stronzate non è contento Tanto non segni Mamma mia Pereira Stai cito Che giocatore C'è da dire che qua la bravura è sua No, pererea Ma pererea Faride, Faride Pereira Mamma mia Non so come si chiama Pereira Oh, Tiger Saffir Tiger Lui sì che è un giocatore Guardatelo il truzzetto Dell'Algeria Incredibile Ma sta solo Prova ad intercettare la palla Ma no, Pereira ci va di testa Mattia destro Mattia destro La stoppa La finta Se ne va da solo Destro Se ne va da solo Destro che giocatore netto il gol di merda per il raccogliare il condomino di classi la palla per roberne che lo vede in alto roberne roberne l'attraversale di capo di roberne roberne lo vediamo la corsa roberne roberne che cazzo fai mi hai ingannato perché è uscito ma c'è un po' e poi è ritratto pure a quanto tu puoi entrare e tu gli ho fatto il pallonetto e questi tuoi mi riflesso mamma mia vediamo aquilani toglie palla di natale di natale di natale di natale lo vediamo di natale di natale 5 a 0 goleada granadas finisce la partita è finita qui 5 a 0 uomo partita destro c'è il cazzo da qua nome di perera che ti piaccappuccio roberne 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 grande contributo alla squadra comunque anche questo episodio è finito ci stiamo avvicinando piano piano al titolo al titolo alla promozione manca un solo punto alla promozione 4 punti al titolo ma non è questa questa dobbiamo vincere questa dobbiamo vincarla easy proprio da qui è tutto ci vediamo domani per il prossimo episodio da qui da lì da lì da lì da lì da lì ci vediamo la prossima bella guardate ciao 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 ciao